Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori La stampa italiana oggi in Edicola si concentra sulla situazione legata al rinnovo di Federico Chiesa con la Fiorentina Ieri incontro positivo tra il patron Rocco Commissio e il papà Enrico, agente del calciatore A confermare il buon esito del Summit lo stesso presidente Gigliato Sul piatto anche la cifra del possibile nuovo contratto, circa 4 milioni di euro Raddoppio dell'ingaggio rispetto ai 2 milioni attuali Una soluzione che potrebbe accontentare tutti Unica in toppo l'eventuale classore rescissoria che la Fiorentina valuterebbe intorno ai 100 milioni di euro Mentre dalla parte del calciatore si vorrebbe abbassare l'asticella Nel frattempo le squadre interessate si fanno comunque avanti per provare a stappare il giallo Viola alla Fiorentina La Juventus è sempre vigile e potrebbe mettere sul piatto una carta importante Si tratta del centrocampista bianconere Merecian, poco impiegato da Sarri in questo avvio di campionato E molto gradito alla dirigenza gigliata Insomma una telenovela ancora ricca di nuovi scoop Ma che la Viola vuole mettere quanto prima a tacere Per Fiorentina1.com Pasquale De Stefano Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola